Andremo a letto alle 6 e vi farò alzare alle 6 Che è il marketing manager di Sony Bayo Stamattina non ho aperto gli occhi, non vedo Siamo nella cloud anche se siamo tutti qui, per accendere le luci dovrò mandare una mail Questo è un video sotto Se pensiamo ad un altro prodotto legato a Microsoft, quale ti viene in mente? Ops Ah, Ops All along the western line Il nostro amministratore delegato Pietro Scappiovani che ci teneva comunque a conoscervi e a salutarvi Va bene, intanto vi ringrazio Metteteci passione Perché se no non ne vale la pena Usatela come esperienza per testare le vostre capacità Certo di passione Vi divertirete come dei pazzi E quindi va bene così Grazie 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 a tutti.